salve a tutti io sono the official video games e bentornati su mind of scare riprendiamo da dove c'eravamo lasciati se vi ricordate bene siamo arrivati in questa casa abbandonata bar hotel che in pratica dobbiamo trovare delle cose per poter far funzionare un determinato pianoforte vediamo da dove che possiamo andare innanzitutto se l'istinto non mi inganna dovevamo andare di qua per vedere cose innanzitutto qua mi sa che era no qua è chiuso eccolo il cilindro cerbero però questo cilindro cerbero di sicuro si usa vicino ad un pianoforte ecco e adesso non è che mi ricordo qui così tantissimo dall'ultima volta ragazzi qua ci eravamo già stati l'unica porta ancora accessibile era questa qua che dovrebbe essere la chiesa questi buoni uomini qui purtroppo non ci hanno nulla a che vedere anzi non c'hanno nulla di cui noi abbiamo bisogno e che cos'è che abbiamo bisogno noi per andare avanti è bella domanda è la domanda sì vediamo ai ragazzi vediamo e che cos'è che si potrebbe trattare in questa scatola che cos'è che abbiamo noi purtroppo non ci abbiamo assolutamente da ciofica un ciuffolo di niente qua posso usare questo oggetto non può essere utilizzato bene ottimo quindi qui non ci sta assolutamente niente da fare andiamo avanti andiamo a vedere di qua noi eravamo già passati però l'unica cosa che non avevo visto era in questa roba qua in questi mobili qua però aspettate che noi qua avevamo trovato anche una bambola con cui potevamo tirare la corda e farla cantare bene andiamo avanti c'è nessuno c'è permesso no io quel tasto la non lo tocco più perché altrimenti si spegne la luce e quant'altro però da qua eccolo qua da quello che ho visto gira un ascensore qua ma possiamo salire noi altri sì piano b bene perfetto uso il fonografo per salvare la partita grazie tizio questo già lo sapevo è perfetto siamo arrivati in pratica al piano di sopra che cos'è che ci potrebbe essere di qua maronne che cos'è se ho passato io è tutto pericolante di qua ok che cos'è che ci potrebbe essere da ste parti secondo me un ciuffolo di niente vabbè fin quanto non diamo un'occhiata non possiamo sapere che cos'è che ci sia sento una persona piangere però eh sentite anche voi è già si sento una persona piangere ma non so dove ma vaffanculo mannaggia quel porco di te momento 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 oh lascia quel tizio la maronne raga ho tirato uno scagazzamento maronne santissime che cos'è obiettivo aggiornato eh grazie sa mannaggia te mannaggia che cavolo di spavento che mi so pigliato e qua eh eh mo qua ehm porte su porte e non si capisce più un cacchio bene mannaia a lui mannaia mannaia a lui apri qua da dov'è che si vada qua eh eh e chi lo sa chissà boh altra porta qua maronne guarda qua che cacchio ci abbiamo aspettate che roba è leggi isaac ledger anzi no morti e sparizioni data descrizione quantità 11 giugno mister e misters vabbè coppia anziana niente figli 13 giugno rivedendo reverendo madonna vabbè ragazzi fate prima che vi mettete in pausa il video e vi leggete tutto quanto con calma buono perfetto esci g diario che cos'è che ci abbiamo le note bene questo qua è quello la che abbiamo recuperato adesso ok grazie tizio buona sapersi ecco altra porta che va da qua bene eh eh e qua mo so cacchi e so cacchi si raga allo qua innanzitutto è chiuso e non ci possiamo fa un ciupolo di niente e andiamo di qui che quello mo il fatto e se non riusciamo a trovare indizi purtroppo non possiamo fare assolutamente niente bene perfetto abbiamo raccolto un'altra roba oh oh mi sa che ho fatto danno mo se mi giro quanto ci volete scommettere che ci sta qualcuno dietro ah no bene ah beh non mi stuprate malissimo con un giovine anzi sono un giovincello andiamo da qua andiamo dalla bo e ne so ecco alla altra porta può essere chiuso bene e qua niente poi da dove che possiamo andare di qua siamo già andati di qua anche bene torniamo indietro andiamo a vedere di qua che cos'è che ci sta allora vediamo di qua è aperta si salve scusate se mi intrometro ma cos'è ma sento un telefono che squilla benissimo e abbiamo recuperato un'altra mappa piano terra semi interrato benissimo io sono qua quindi qua ci abbiamo porta chiusa e da qua non lo so bene e un'altra cosa l'abbiamo recuperata e vabbè ma mo qua apriamo porte su porte non so ecco alla questa è chiusa salve aspetti eh scusi eh scusaste ecco alla una tirata di lag che vale più di mille parole salve nessuno in casa ecco alla un altro telefono che squilla benissimo ottimo salve mia elisabeth ci si stai bene se ne è andato bene sono riuscito a trovare uno dei cilindri e si infatti perché se vi ricordate bene nel primo appuntamento avevamo trovato per l'appunto dei cilindri eh va a capire mondo stanno c'è un altro uomo che qui lo conosci ma no non ti preoccupare tesoro dei rumori ecco alla perfetto l'hanno attaccato l'hanno portato via sembra che coloro che l'hanno portato via non ci vedano bene e che ne saccio io boh questo me lo devi dire tu ciccia l'hanno attaccato l'hanno portato ecco alla sento rumori raga eh sento tanti rumori ma stai tranquilla ecco alla non li vado a trovare io sui cilindri abbi cura di te te ne prego si certo cara non ti preoccupare perfetto ok altro obiettivo aggiornato però eh eh dobbiamo trovare i cilindri nei dintorni dell'hotel e mo va capisti così dove che stanno sapete che non lo so ragazzi sapete che proprio non lo so io volevo andare in pratica a salvare la partita però non mi ricordo più qual'era la strada salve c'è nessuno qua ragazzi dobbiamo controllare perfile per segno proprio tutto e vabbè però qua porte che si aprono mannaggia lì tua mannaggia la zozzona e che due maroni e due maroni maronne sento altra bambola che sta cantando ma questi qua che cacchio so tutti i cadaveri bene abbiamo raccolto un'altra roba eh già qua secondo me che è la camera delle torture ecco per l'appunto mi sa di sì oddio maronne santissima ma dove cacchio sto andando io dai forza tira 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 che sei forzuto e dai e non te caga sotto però eh mi raccomando state tranquillo state buono maronne raga maronne ecca la un altro bene ottimo vai vai tira tutto tira tira che sei forzuto come come magiste ecca la salve ma che cacchio è successo a sto tizio la tieni frea ah quindi allora loro non vedono però beh scusaste eh ma un altro po' più sotto potevi pure aprire ah no ok quindi se noi tratteniamo il fiato credo che loro a noi non ci possano trovare salve eh c'è nessuno in casa sono venuto a fare le pulizie vabbè e poi dite sì che pulizie dobbiamo fare qua tutto sfasciato e rotto mostri che mi appaiono davanti a mondo cacchio è andato quello ecco qua e niente ci accovacci speriamo che ora non esci da qua eh perché se esci da qua sei proprio un bastardo eh te lo dico a priori altra strada di qua ecca la un paio di ah no questa qua è chiusa bene andiamo avanti è permesso? sono io Silvio Berlusconi sono venuto a ritirare la pensione tacci sua ecca la poi è chiuso può andare da nessuna parte da qua invece che cos'è che ci abbiamo? ecco bene mi raccomando eh non stuprate il mio giovine corpo che cacchio oddio oh maronne sent raga sento passi rattieni il fiato stronzo nonne santissima raga che angoscia che c'ho addosso mo eh mi potrebbe apparire di tutto avanti a ripiglia fiato mi potrebbe apparire di tutto avanti trattino stufiato che c'hai l'alito fetente puzzolente che se da vicino a qualcuno gli hai rotto in faccia gli hai barba e capelli vabbè però se sti cosi qua sono attratti dal rumore ecca la speriamo che ti non ha fatto danni eh ciao eh è stato un piacere che no pervi apri qua via damos damos e sopra damos e damos e damos e sopra ecco bene perfetto e credo che forse tieni traccia degli strumenti chiavi sulla mappa eh sì certo come no se solo sapessi dove cacchio stanno sti strumenti e quanta ecco bene siamo usciti fuori credo non lo so bene allora salviamo la partita e non te sta preoccupa ancora vabbè ok dai ragazzi allora io direi quasi quasi di completare qui quest'altro episodio della serie di di made of scare mi raccomando lasciate like commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete questo video per aiutare il canale a crescere e da The Official Video Games è tutto noi ragazzi ci si becca molto presto con un prossimo video ciao ciao ragazzi iscrivetevi